Salto finale come conclusione, quindi un esercizio che comunque aveva tutti i suoi requisiti. 14.20 il punteggio per Jacaterina Kurbatova, adesso è la volta di Morgan Smith alla trave, atleta della Nazionale degli Stati Uniti, Morgan Smith che due anni fa a Jesolo ha gareggiato nella competizione Juniores, quindi un ritorno in provincia di Venezia per Morgan Smith. Si è molto cresciuto in questi due anni, sia ovviamente fisicamente ma anche tecnicamente, è molto brava ormai una ginnasta che fa parte in pianta stabile della squadra statunitense del Dream Team americano. E' proprio il caso di definirlo Dream Team americano, in testa gli Stati Uniti, lo abbiamo visto dopo la seconda rotazione, grande impegno della Nazionale a stelle e striscia che sta onorando nel migliore dei modi il terzo trofeo città di Jesolo. Buon esercizio per Morgan, lievissima sbavatura da un decimo, niente di compromesso quindi per il punteggio. Si prepara per la parte finale, un doppio salto finito spalle alte, un piccolo passetto.